29 maggio 1985, 29 maggio 2015. Sono passati 30 anni dai tragici fatti dell'Eisel, dove in occasione della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool persero la vita all'interno dello Stadio Belga 39 persone. Una delle pagine più tristi della storia sportiva italiana e non che negli anni ha dovuto affrontare un percorso non semplice. In queste ore da Arezzo, che ha pagato un grave tributo con la scomparsa di Roberto Laurentini e Giuseppina Conti, è partita una proposta proprio per volontà di chi alla strage di Bruxelles è sopravvissuto. Claudio Chiarini si trovava in quel maledetto settore Z e dà impressi nella memoria quei drammatici momenti. La richiesta è stata inviata direttamente ai vertici della società bianconera. Invitare una rappresentanza minoritaria per carità alla finale di Berlino, ovviamente una dichiarazione pubblica del Presidente, nonché a un qualche evento però particolarmente dedicato alla Juventus Stadium o qualunque altra iniziativa il Presidente a nome della società volesse prendere, credo che sarebbe il degno riconoscimento a un momento che è stato un po' tenuto sempre sotto traccia, ma che credo che abbia bisogno per la lucentezza ovviamente del nome stesso che la nostra società porta, di essere valorizzato per quello che merita, essendo e trattandosi ovviamente della vita di 39 persone. La richiesta è stata condivisa in pieno da Andrea Laurentini, Presidente dell'Associazione fra i Familiari delle Vittime dell'Eisel, che dopo aver raccolto il testimone del nonno hotello, sta portando avanti la battaglia più importante, allenare la memoria per non dimenticare ciò che successe e promuovere una cultura sportiva migliore. Negli annali della mente delle persone non deve rimanere la data alla partita della Coppa, ma deve rimanere il triste episodio affinché se ne faccia memoria per migliorare e far sì che tutto questo non debba mai più capitare.